Non omicidio volontario plurimo, ma omicidio colposo plurimo aggravato, non detenzione in carcere, ma ai domiciliari. Sono queste le prime decisioni del giudice per le indagini preliminari del Palazzo di Giustizia di Lago Negro, Lucia Iodice, a carico di Gianni Paciello, il 22enne autore della strage di Sassano. L'udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri presso l'ospedale Ruggi di Salerno, dove il conducente dell'autokiller è ricoverato dal giorno dell'incidente, nonostante da più fonti si è cercato di diffondere la notizia di un suo trasferimento in un'altra struttura. Paciello, che pare fosse all'oscuro delle quattro morti da lui provocate, tra le quali anche quella del fratello, dopo essere stato informato dal GIP è scoppiato in lacrime, circostanza che ha fatto sì che l'interrogatorio fosse sospeso. Ripreso con il supporto sanitario già previsto in precedenza, ha cercato di dare la sua versione, anche se su tutto sarebbe prevalso il non ricordo. Gianni Paciello avrebbe detto, infatti, di non ricordare della sua folle corsa a 137 km orari, di non ricordare l'urto contro il cordolo della rotonda e poi di non ricordare l'impatto contro l'ingresso del barra, il New Club 2000 di Silla di Sassano. Vagliati tutti gli aspetti, il giudice del Palazzo di Giustizia di Lago Negro ha deciso, come detto, di derubricare il capo d'accusa da omicidio volontario in omicidio colposo plurimo, con l'aggravante della guida in stato di ebrezze della colpa cosciente. La detenzione ai domiciliari dovrà per il momento essere scontata nel reparto detenuti dell'ospedale di Salerno. Il GIP si è riservato ogni altra decisione all'atto di dimissioni dal nosocomio salernitano della 22enne sassanese. Intanto da più fronti si è elevata la polemica dopo l'alleggerimento del capo d'accusa per Gianni Pacello. Da tutti l'appello alla giustizia per le quattro vittime dell'autoproiettile, Nicola, Giovanni, Luigi e Daniele, a scendere in campo per la giustizia. È stata anche la portavoce dei deputati di Forza Italia, Mara Carfagna. La drammatica verità è che la derubricazione da parte del GIP da omicidio volontario ad omicidio colposo plurimo aggravato è frutto di un sistema penale che il Parlamento ha il dovere di cambiare. È necessario, ha aggiunto la Carfagna, ribaltare una logica innocentista che vede nella guida sotto l'effetto di alcol e droga un attenuante prima che un aggravante. Bisogna ribaltare la logica per cui chi uccide in tali condizioni possa finire, quando i processi finiscono nel dimenticatoio mediatico, a patteggiare pene ridicole per la gravità di un reato come l'omicidio. Al premier Renzi, che la scorsa estate aveva più volte garantito che si sarebbe intervenuti sul tema dell'omicidio stradale, la coordinatrice provinciale di Forza Italia a Salerno ha chiesto di onorare il suo impegno. Da parte nostra ha concluso la Carfagna la massima disponibilità a collaborare in maniera costruttiva e rapida.